Daniele De Cano, nuovo grande acquisto del Potenza Vicena, appena messo la firma che lo legherà la società giallorossa, quali sono le tue prime impressioni? Io ho fatto questa scelta anche un po' per una scelta di vita, quindi sinceramente ho guardato tante occasioni, ho avuto tante richieste ultimamente a pelle, perché mi è sembrata la scelta migliore vista la situazione, quindi io sono molto contento della scelta che ho fatto, quindi cominciamo da qui. Dalla Serie D alla promozione cosa ti aspetti? Non lo so, è un salto indietro per carità, di categorie ma sinceramente non mi aspetto niente, è una nuova avventura e la prendiamo col massimo dell'entusiasmo. Senti, invece da te sicuramente si aspettano i gol, ma soprattutto l'esperienza maturata in questi anni in alte categorie. Sì, sicuramente si aspetteranno tante cose positive, io sono qui per poter far bene e poter divertirmi, quindi sicuramente metterò tutto il mio entusiasmo e la mia esperienza a favore un po' di tutti. Senti, per chiudere arrivi in una piazza conosciuta per il calore del tifo, che di tifosi ne hai vissuti tanti, sicuramente è un bello stimolo. Sì, me ne hanno parlato molto, quindi sono anche molto curioso di questa cosa e spero che ci sia molto entusiasmo intorno a questa nuova avventura, non soltanto mia ma della società e quindi che ci diano una mano nel raggiungere degli obiettivi professionali.